Questa è la cattivante sigla che ha fatto l'ungherese, non ci crederete ma c'era Renato di origine italiana Ah vedi Siamo all'ultima settimana C'è caldo in studio Questo è il Diorni ungherese Guardate che bel ragazzo E chi saranno? I concorrenti I tre sopravvissuti, Balint Evi Sì La piccola Evi Questa batte dalle pazze di castellina E Renato Dicevamo origine italiana ma non lo ha fatto notare, non ha mai detto parole italiane Beh qua avete capito tutti, non stiamo a tradurre Eccolo qua Renato, espressione intelligente Maglia della Juve Cosa dirà? Renato Le sue fan Ecco Perché ha detto Renato vaffanculo? Perché non ha detto altro che parolacce in italiano per tutti i 90 e i 100 giorni E loro non sapevano il significato Assolutamente Sentiamolo Oltre a suonare la chitarra, piuttosto bene Lui tendeva a passare per la casa Prima a cospaggersi di fango Certo Perché cercare di limonare con un gatto Caratteristica degli italiani, no? E poi Eccolo Lui passava Deve uno dormire Testa di cazzo Così 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 Gratis Tanto loro non capiscono Non capiscono Certo Puttana 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 eh E lui l'ha suggerito Renato E' il terzo Deve uscire Come la prende? Amigos Commosso direi Eccolo Così Lo riconosco adesso Eh ci sta ma eh Però una volta uscito basta Bel giubbocco Tutti i fan che lo aspettano Lo acclamano Li saluta così Ecco sentite bene Ed eccolo finalmente Prende il microfono Vuol dire qualcosa Appena eliminato Ma no Un delirio Non capiscono Vi domanderete Il Marco Liorri Ungherese Quando lui è uscito Con che parola lo ha accolto? Ascoltate Ma no E credeva che fosse Un tormentone simpatico